Ok, è qui ragazzi, io sono arrivato. Grazie della compagnia, eh. Ma da chi è sta festa? Liberani Armanno, un mio ex compagno di scuola che adesso fa l'architetto qui nella Grande Mela. A scuola lo chiamavano lo schiantatope. Non so se rendo l'idea, eh. Ammazza, oh, pensa che movimento. Peo, facci salire con te. Per carità, io da in bucato non entro nemmeno se c'è Boderek. Ha parlato Zaratustra, però l'altro giorno ti sei imbucato con noi in casa Cuppiello, eh, caro il mio bel marchesino. E dai, Peo, te prego. E va bene, facciamo così. Io salgo, avverto Armanno e voi fra un quarto d'ora mi raggiungete, ok? Apeo, riscardaci l'ambiente. Don't worry. Comunque, qualsiasi cosa succeda, la parola d'ordine è una sola. Liberani Armanno lo schiantatope. Preparate le bestie. Teo! Armanno! Vecchio maiale! Ehi, però, complimenti, ti sei sistemato bene qui, eh, alla regola. Sì, devo dire che è piacevole. Guarda, meno male che ti ho trovato. Sono qui in giro con delle nuove leve, ma c'è un imbranamento. E poi mi sa pure che c'è qualcuno un po'... Invece tu, oh, chissà che movimento che c'hai qua tutte le sere, eh? A New York le feste sono solo un pretesto per fare sesso. Mo dai, vieni. Allora mi tolgo subito i pantaloni. Forse è meglio che me li tengo, eh? Ragazzi, questo è un mio ex compagno, Peo Colombo. Ciao, Peo! Com'è carino! E questi chi sono? I Village People? No, amici. Ciao, amore, sono Robert. E questo di che amico? Di voi, George? Mo smettila. Se vuoi farti una sauna, un jacuzzi, c'è anche il bagno turco. Scommetto che nel bagno c'è anche il turco. Magari sono così toasty. Vuoi ballare? Con chi? Con me. Christopher è un coreografo favoloso. Lui? Ma io no. No, ragazze, scusate un attimo. Veramente io dovrei chiarire un little dettaglio. Insomma, a me piacerebbe... I like... La cara e vecchia... Faiga. Sorry. Amore, come sei antica. Tesoro, come sei frocia. Peo, ci sono i tuoi amici. Come lo chiamavano lo schiantatope, eh? Ah, Peo, ma vattene affanculo.